Patic Peda, sono già trascorsi due giorni dalla vittoria contro la Juventus. Quanto è forte ancora in voi la soddisfazione per quel risultato positivo, la vittoria ai tre punti? Ovviamente siamo molto contenti di questa partita, Juventus è una squadra molto brava, allora non era facile, abbiamo giocato bene di grande sacrificio, però la partita è già finita e dobbiamo pensare per la prossima. I bianconeri si aggiungono a Inter e a Roma tra le squadre che avete battuto, possiamo definire la primavera bianca-azzurra una massa grandi? È vero, abbiamo vinto contro la Roma, Juve, anche Inter e Atalanta, però per tutte le partite prepariamoci uguali, è così. Mercoledì, come hai detto, vi attende una trasferta, andrete contro il Sassuolo che ha fermato a sua volta la capolista Roma, come vi state preparando a questa gara? Anche il Sassuolo è una squadra che gioca bene in questa stagione, sono al sesto posto in classifica, allora dobbiamo essere concentrati, come ho detto prima prepariamoci uguali e vogliamo vincere. La SPAL in questo momento è la miglior difesa del campionato, da dove nasce l'intesa tra voi centrali e tra voi compagni di squadra? Perché ovviamente la fase difensiva non è solamente della difesa ma è di tutta la squadra e soprattutto come vi allenate per raggiungere questo obiettivo che è il fatto di non aver incassato così tanti gol come magari possono aver fatto le altre? Facciamo tanto tattica in allenamento, facciamo subito dopo la partita, prepariamo per il nostro avversario e anche io sono molto contento perché sono il difensore centrale e sono molto contento di questo. Ma l'intesa tra te e i tuoi compagni di reparto nasce da un feeling spontaneo oppure proprio c'è un lavoro molto intenso dietro? È un lavoro molto intenso di tutta la squadra perché in fase difensiva lavoriamo tutti. In squadra con te ci sono altri tre tuoi connazionali, quanto è importante poter appunto contare sulla presenza di giocatori polacchi come te? Sicuramente in primi giorni in Italia è importante per polacco perché quando ci sono altri puoi parlare in polacco è più facile però per adesso parliamo in italiano e tutti siamo insieme anche italiani allora è così. E la tua terza stagione alla SPAL come ti stai trovando in Biancazzurro e più in generale nella città di Ferrara? Sono molto contento che sono qua, mi piace molto Italia, mi piace molto Ferrara e sono molto contento che sono qua in questo posto. Sei cresciuto nelle giovanili del Legge a Varsavia, una delle squadre più titolate di Polonia. Quali sono le differenze principali secondo te ovviamente tra il calcio polacco e quello italiano? In Legge a ero dieci anni però volevo andare in Italia perché secondo me in Italia si gioca meglio e il campionato è molto molto differente perché qua si gioca calcio di tanta tattica e anche tecnicamente i giocatori sono sono molto 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 meglio tecnicamente meglio così. A proposito della Polonia fai stabilmente parte delle selezioni nazionali giovanili da quando avevi 15 anni. A maggior ragione per te che giochi e vivi all'estero quanto ti riempie d'orgoglio poter rappresentare ovviamente il tuo paese in Italia ma puoi anche rappresentarlo con la nazionale. Sono molto contento perché posso giocare in nazionale. Adesso sono convocato in nazionale Polacan Under 21 prima volta allora sono molto contento di questo. Era un tuo obiettivo arrivare stabilmente in nazionale Under 21? Per i giocatori è molto importante giocare in nazionale perché puoi rappresentare la tua nazione allora sempre sei contento quando sei convocato. L'attenzione verso la primavera SPAL da parte dei tifosi biancazzurri è sempre più forte. Cosa ti sentiresti di dire ai tanti tifosi sostenitori che vi seguono ovviamente sui social e sul web visto il calore che vi stanno dimostrando in questi giorni, in queste settimane? Questo è molto importante perché noi giochiamo per i tifosi, siamo contenti che tutti guardano le nostre partite e siamo contenti di questo.